Però non è che possiamo pretendere, io capisco, vorrebbe dire da tutti noi che siamo un pochino meglio, ci sono intere parti di questa società, fra cui tutte le nuove povertà che sono fuori da tutto il welfare, e questo lo diciamo tutti, è la verità, stanno male, ma no, mi fai finire però Morani, non entrano quelle persone perché va cambiato i parametri per poter accedere al welfare, perché con l'Ise ci sono delle persone che rimangono fuori, e vanno fatti, e qua ne parliamo tante volte, abbiamo parlato i padri separati, ci sono tanti problemi su questo. Ci sono tutte le questioni dei giovani che non riescono a mettere su famiglia, perché se vengono assunti con il jobat non riescono a avere i soldi per poter mettersi una casa, non riescono a chiedere un prestito, non glielo danno le banche, non glielo danno. I prestiti sono aumentati fortemente, non diciamo cose che non sono vere. Ma non è vero, vergogno, però non posso pregiare, Morani, con il fatto di Battista.